Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! ma guarda che noi siamo venuti solo per mangiare è certo va bene è il discorso no 50 anni è il discorso hai due anni per pensare la domanda di Amorino quante persone ti vogliono tagliamo di solito si addormentano quando parlo e quindi le statistiche diciamo che è un po' più basso e invece è grazie della vostra presenza vi voglio bene